bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video come vedete in queste riprese che non sono fatte da me c'è un nuovo server un server in cui sono helper questo server si è ancora in fase di beta per ora gli miei piaci sono solo il fashion quindi godete entrate in questo server l'ip lo metterò da qualche parte nello schermo durante le riprese e vedete il resto del video iscriviti al canale